Caro Sandro Magister, oggi ho letto un tuo splendido articolo sul tuo blog Settimo Cielo dell'Espresso intitolato Francesco, re per mandato divino, ciò che prima di lui nessun papa aveva osato dire. In questo articolo ti riferisci a quello che io stesso avevo trattato qualche giorno fa sulla nuova legge fondamentale dello stato della città del Vaticano che è stata pubblicata il 13 maggio quando l'attenzione di tutti era concentrata sull'incontro tra Bergoglio e il presidente ucraino Zelensky. Come hai giustamente sottolineato, si tratta nient'altro che di una legge in cui Bergoglio, sommo pontefice, soprano della città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Si tratta nient'altro di un nuovo movimento per accentrare sempre più potere che giustamente, come noti, contrasta con tutta quella idea di sinodalità, democrazia che ci viene ammannita giornalmente. Ma come hai giustamente notato, la svolta vera è nel preambolo, anch'essa firma di Francesco, che così comincia. Chiamato a esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo stato della città del Vaticano. Come hai perfettamente ricostruito, il potere temporale del Papa non deriva dal munus, non deriva dal munus petrino, il potere pratico, non deriva dall'investitura divina. E tu citavi uno studio di Roberto Regoli sulla rivista Barnabiti Studi, in un dotto saggio sul cardinale Lambreschini, in cui si evidenzia proprio come legare il potere temporale dei Papi alla divina origine della Cattedra di San Pietro, cioè al munus petrino, è insostenibile e pericoloso. Perché se i domini temporali fossero assolutamente necessari al Capo Supremo della Chiesa, ne verrebbe di conseguenza che Gesù Cristo sarebbe venuto meno alla sua Chiesa, in necessaris, sul bel principio dell'epoca che la stabilì, poiché per secoli i sommi pontefici non furono certamente sovrani temporali. Ecco, permettimi di metterti a parte dei risultati della mia inchiesta. Ti sarei veramente grato se potessi dedicare appena 28 minuti o poco più del tuo tempo per visionare i due documentari che ti metto in descrizione su questo video, di Ie, Sire e Intelligenti Pauca. Di Ie, Sire spiega come Papa Benedetto non abbia mai abdicato, ma abbia fatto qualcosa di profondamente diverso. Lui ha annunciato che dopo 17 giorni avrebbe perso il ministerium, il potere di fare il Papa. Ora, come tu sai, questo è impossibile, perché il Papa non può rinunciare al solo ministerium. Perché, come ricorda il Cardinale Müller nel suo ultimo libro, munus e ministerium sono inscindibili. Ma lo diceva anche il Vescovo Sciacca nel 2014 sulla stampa. Munus e ministerium non possono essere separati. Cioè, se il Papa rinuncia al munus, come da canone 332.2, perde anche il ministerium. Se rinuncia all'investitura di Papa, di origine divina, il munus petrino, l'essere Papa, allora decade tutto il resto, decade anche il ministerium. Ma non può rinunciare al solo ministerium trattenendo il munus petrino. Ecco perché Papa Benedetto, attraverso questo congegno canonico sottilissimo, che si avvale in un modo geniale del latino e del diritto canonico, non ha fatto che annunciare un qualcosa che si sarebbe avverato da solo. Cioè, la sua detronizzazione, la sua collocazione in sede impedita. Adesso, anche per non annoiare i nostri ascoltatori, che sono abituati a sentire questa storia da qualche anno, migliaia di volte, ti rinvio, se puoi, alla visione di questi due brevi documentari. Tra l'altro, ti dovrebbe essere arrivato codice Ratzinger, mi farebbe piacere se mi dessi conferma di questo invio, ma le ultime acquisizioni dopo la morte di Papa Benedetto hanno completamente chiuso il cerchio su questa faccenda. E qui veniamo alla spiegazione del perché Bergoglio inserisce questo riferimento al munus petrino nell'incipit della legge fondamentale. Chiamato a esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo stato della città del Vaticano. Ora, questa non è nient'altro che una forma di propaganda, di plagio subliminale per far credere al pubblico che lui abbia il munus petrino. Ma lui questo munus non ce l'ha, non l'ha mai avuto, perché il conclave che lo ha eletto nel 2013 era illegittimo. Illegittimo in quanto convocato a Papa non morto e non abdicatario. E Benedetto non era abdicatario perché avrebbe dovuto rinunciare al munus e non l'ha fatto. Non era abdicatario perché un'abdicazione non può essere differita di 17 giorni in quanto atto giuridicamente puro. E non era abdicatario perché non avrebbe mai potuto rinunciare da solo al solo ministerium conservando il munus. La questione dell'ora vigesima che pospone alla promanazione del bollettino Vaticano che convoca il conclave abusivo 2013, l'entrata in vigore di questa rinuncia al ministerium chiude il cerchio su tutto. Cioè, Papa Benedetto non poteva rinunciare attivamente al ministerium, ma lo ha perso questo ministerium perché mentre era regnante si è visto partire i lavori per l'elezione di un nuovo Papa. Quindi, come possiamo immaginare un Papa più impedito di questo? E infatti, non a caso, è rimasto a vivere in Vaticano nella sede col nome pontificale, la veste bianca e partendo alla benedizione apostolica e ha scritto che sono il primo Papa a essersi dimesso dopo mille anni, mentre l'ultimo abdicatario è Gregorio XII nel 1415. Per questo ti rinvio sempre ai due documentari. Quindi, questa cosa che giustamente sollevi, questa incoerenza assurda dell'incipit della legge fondamentale di Bergoglio in forza del munus pedrino, non è nient'altro che un'azione propagandistica, ma è controproducente perché ci ha ricordato ancora una volta che lui non ha il munus, non ha l'investitura di Dio, non ha l'assistenza dello Spirito Santo nel Magistero straordinario né nel Magistero ordinario e si vede, e si vede lontano un miglio. Ti sarò grato se vorrai rispondere a questo mio messaggio audio, e ti sarò altrettanto grato se vorrai farmi sapere se ti è arrivato il libro Codice Ratzinger. Con un cordiale saluto, il tuo collega Andrea Cionci. Vi ricordo le prossime presentazioni di conferenza su Codice Ratzinger a Grotta Ferrata, vicino Roma e Castelli Romani, sabato 3 giugno, ore 15, ristorante L'Asino d'Oro, via Verdi 8. Prenotazione consigliata solo WhatsApp al numero 328-4359-707. Domenica 11 giugno, invece, sarò a Como, alla Cascina Massè, via Sant'Antonino 4, al Bate, Como, per la prenotazione numero 351-611-0890. Invece, il 17, sarò a Ferrara, con la moderazione della collega Alice Lazzari, alle ore 15, presso Factory Grisù, Sala Macchine, via Poledrelli 21. Per prenotarsi, WhatsApp, SMS ad Aurelio 392-191-0975. Naturalmente, sempre ingresso libero, a offerta libera. A Grotta Ferrata, per chi vuole, si potrà anche cenare successivamente, con un menu speciale, di cui vi diranno tutto le persone che rispondono alla prenotazione. Grazie e vi aspetto.